Lupo, ci risiamo! Attacco a Varico, Capolaserra, dal lato di Castel del Monte. E come al solito Lupo, anche oggi hai fatto secondo. Una bici giallo canarino si sta avvicinando al Valico, in onore del Lupo questa ripresa. Lupo, non ce n'è per nessuno purtroppo, le mie pazzie non hanno limiti. Ci siamo Giulie! Adesso incomincio la discesa, ma mi devo vestire, altrimenti domani non posso uscire con Lupo e con Geluca Perfetti. Ciao!